O buongiorno a voi, dal vostro Professor Stuntz, Miau, Miau, titolo L'Antico Detto. Al centro di Palermo, una guida turistica affronta il suo slancio letterario citando famosi detti. Ecco, da questa piazza possiamo portarci in ogni angolo della città. Come ben vedete, tutte le strade portano a Roma. Tra i turisti, un saggio agricoltore alza la voce e fa A Palermo, semmai, e la guida L'Antico Detto diceva Roma Ah, è così. Sì, proprio così. Tutte le strade portano a Roma. Vabbè, allora ne prendo una e vado a vedere se c'è il Colosseo. Ciao! 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 Ciao!